San Giovanni Rotondo, città di San Pio, sarà una delle 21 tappe dell'edizione 102 del Giro d'Italia. L'evento è stato presentato ieri durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre al sindaco della città garganica Costanzo Cascavilla, anche il città della nazionale ciclismo Davide Cassani. Cascavilla, sollecitato anche dalle domande dei presenti, ha illustrato le varie iniziative che faranno da cornice ad uno degli eventi sportivi più seguiti e amati nel nostro paese. Da Cassino a San Giovanni Rotondo, il prossimo 16 maggio, 233 chilometri tra Isernia, Boiano, Campobasso, Lucera e Foggia, fino alla salita finale di Coppa Casarinelle attraverso Rignano Garganico. Abbiamo chiesto al CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani di raccontarci perché il Giro d'Italia continua ad affascinare così tante persone, poi in conclusione un suo ricordo personale sui suoi Giri d'Italia. Ascoltiamo. Il 16 maggio sarà una gran bella giornata di festa perché il Giro d'Italia porta il sorriso, porta la gente sulle strade ad applaudire i corridori. È comunque un evento culturale, un evento che da più di cent'anni accompagna la nostra Italia. Perché tutti sanno andare in bicicletta, perché chi partecipa al Giro d'Italia è un eroe, perché fa delle cose straordinarie. La tappa di San Giovanni Rotondo misura 233 chilometri, sono tanti. Se tu vai in cima ad una salita, se guardi in faccia ad un corridore, riesci a capire tante cose. La gioia del primo, la fatica dell'ultimo, gli sforzi dei corridori che cercano di stare con quelli che vanno più veloci. Quindi è comunque un insieme di emozioni. E poi, ripeto, il Giro d'Italia ci accompagna da quando siamo piccoli. O l'abbiamo visto in televisione, o ci è passato sotto casa. E quindi è un po' una favola, è qualcosa di straordinariamente bello e accattivante. Quindi la gente riesce quella giornata a prendersi una giornata di vacanza, a fare dei chilometri in macchina o anche in bicicletta per andare a vedere i propri bienemini. Battuta finale, il ricordo più bello del Giro d'Italia di Davide Cassani. Tappa di Prato, Giro d'Italia del 1991. Io il primo giro l'ho fatto nell'82, quindi dopo tanti anni sono riuscito a vincere la tappa e a darmi i fiori è stato un premio Nobel, Rita Levi-Montalcini. E quindi io a casa ho una foto che mi ritrae con il premio Nobel che mi dà i fiori della vittoria. Bene, questo era l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi, prossima edizione alle 19.45.